Tutti nel nostro Paese sono d'accordo che le nostre istituzioni sono arcaiche e non funzionano. E' giunto il momento di cambiare, di cambiare radicalmente. Noi proponiamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma soprattutto proponiamo che questa scelta sia una scelta fatta dai cittadini. Vogliamo un referendum sul presidenzialismo e l'elezione di un'assemblea costituzionale che dia attuazione all'esito di quel referendum. Abbiamo un Ministro della Democrazia Diretta. Bene, io chiedo a questo Ministro della Democrazia Diretta, l'On. Fraccaro, che è un uomo del popolo come io, sono un cittadino qualunque, di accettare un incontro per discutere su questo tema e consentire ai cittadini di votare un referendum sul presidenzialismo.